Allora, io però qua, ragazzi, non so con cosa iniziare questo nuovo video della Pixamon, perché noi abbiamo un soggino totem che non ci dropperebbe, cioè, non metteremo nulla da questa sfida qua, non ci dropperebbe niente, ma dietro questa casa, se non è despaunato, abbiamo lui, ragazzi, Tyranitario Boss, leggendario, leggendario, leggendario. Quindi, tecnicamente, riusciamo a farlo fuori con un Kyogre Primal, perché la Pixamon non mi fa vedere la battaglia, dannazione alla Pixamon, allora, mentre ce l'abbiamo, salutiamo i campioni di oggi che hanno commentato con l'hashtag Minecraft. Ma finita, ragazzi, Paola Less Giovanni, quindi, ragazzi, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video della Pixamon. Allora, come state, ragazzi, spero tutto quanto bene, non abbiamo shotato questo Tyranitar Boss Incredibile, no, come non l'abbiamo attaccato, au, 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 ma no, ragazzi, allora c'è qualcosa che non va, e oggi partiamo molto, molto bene in questo nuovo episodio. Comunque, cosa andremo a fare nei video di oggi? Oltre che ottenere una bellissima caramella rara e poi cos'altro ha droppato, niente di interessante, vediamo se c'è ancora il totem sul galeo, c'è anche lui, quindi, già che ci siamo, sfidiamo anche questo giovane campioncino. Cosa facciamo nell'episodio di oggi? Allora, oggi, ragazzi, facciamo una sfida un po' diversa dal solito. Pensavo, giusto per rendere comunque la Pixamon, essendo comunque anche una serie dove noi dobbiamo cercare di catturare più Pokémon possibili, più leggendari possibili, più ultra creature possibili, tutto quello che riusciamo a fare, starter, mica starter, pensavo quanto può essere figo cercare di dover catturare il Pokémon più grosso, il Pokémon più grande, che è mai stato creato, è mai stato programmato all'interno della Pixelmon. Quindi, oggi, noi, per dover di cronaca, andremo a catturare un bellissimo Wailord. Ebbene sì, ragazzi, per chi non lo conoscesse, è un Pokémon di tipo acqua, che quando spawna nella Pixelmon diventa veramente gigantesco. Forse, per chi ha visto anche delle sfide che ho fatto con i Lucky Block, ogni tanto Loco lo tirava fuori un pochino per scherzare, ma è un Pokémon di quelli che, per esempio, è talmente tanto gigante, che non ci sta in tutta quanta questa zona di casa mia. Ed è veramente, veramente assurdo. Però facciamo una cosa, andiamo... Ah, io voglio fermarmi un attimino... Innanzitutto, non so parlare oggi da nazione, un attimino, qua nella casa dei campioni di disegni, perché io ogni volta che entro qua dentro mi impazzisco, guardate che figata. Oggi andiamo a salutare Mario, che ci ha fatto un disegno non bello, un disegno bellissimo di Squirtle con un bel cuoricino, ragazzi. Guardate che figata, Mario. Grazie di cuore per questo disegno, perché è anche questa un'ottima opera d'arte, tutti quanti quello che avete fatto voi, ragazzi, sono delle opere d'arte, chi fa dei disegni incredibili, chi sta imparando adesso a fare i disegni. Vi ringrazio, come sempre, di cuore, ragazzi, per tutto quanto il supporto che mi date per questa serie qua a Pixelmon. Veramente mi spronate a portarla sempre di più e io sono molto, molto felice di questa cosa, quindi grazie di cuore. Comunque, dato che voglio andare a catturare questo Pokémon qua, dobbiamo innanzitutto prendere una squadra delle catture, diciamo, un po' più bassa di livello rispetto alla nostra vera squadra delle catture. Quindi per oggi direi che facciamo una cosa, curiamo prima i nostri Pokémon, sistemiamo un attimino anche l'inventario della squadra, perché qua, in realtà, ci manca solamente Charizard. Quindi, andiamo a prenderci il nostro Charizard Shiny, lo mettiamo tutto quanto nel box sotto, direttamente all'ora, eh. Mettiamo tutto quanto per bene, così, ci teniamo solo un Pokémon al 100, però non Charizard perché lui sarebbe super efficace, essendo un Wailor di tipo acqua. Necroz, ma via. Oggi ci portiamo con noi solamente Mewtwo, ragazzi. Però, direi, facciamoci almeno una squadra che possa essere definita tale. Quindi, Zygarde, lui quello, ragazzi, messo bene. Questo qua, che a livello 100 ce lo portiamo con noi. Molto, molto interessante. Poi, che ci portiamo oggi con noi in battaglia? Magari questo Mew? Qual è il Mew? No, questo Mew qua ha delle mosse orrende. Noi avevamo Mew con falso finale, che credo che sia questo qua, che potrebbe, false swipe dovrebbe essere, ragazzi, infatti. Che dovrebbe lasciare il nostro Pokémon avversario a un HP. Quindi ci portiamo anche lui, che è molto interessante, per poter catturare questo Wailor gigantesco. Poi, non si sa, magari, ragazzi, ci scappa anche un Pokémon leggendario durante la sfida. Poi, vediamo chi altro possiamo portarci. Sheptain no, perché è troppo potente. Quindi, ci portiamo, magari, Pokémon intorno al Meltan. C'è un altro Meltan al 7, io. Allora, ho un Gary Doss al 35 che non è molto, molto interessante. Cosa potrei portare? Perché non ho Pokémon di livello basso. Forse questo Blastoise, che è Shadow, che però ci potrebbe essere quasi utile. Gengar al 50, non male. Gengar al 50 me lo porto. E anche già la giga evoluzione è attivata. Metagross al 62 potrebbe essere interessante, forse è un livello un po' troppo alto. Swablu al 33, ragazzi, che potremmo evolvere in Altaria, dato che abbiamo anche la Altarite, per poterlo livellare. Anzi, facciamo una cosa, ragazzi. Dato che Altaria non l'abbiamo come Pokémon, e ho notato che è un Pokémon che a voi piace veramente tanto, cosa facciamo se invece lo tiriamo su di livello con queste XP Candy e lo portiamo al livello con cui si evolve in Altaria, questo Swablu? Prendiamoci anche l'Altarite, ragazzi, che sicuramente si troverà qua da qualche parte. Ora controlliamo Kangaskanite, la Soul Dew, vediamo, vediamo, perché sono sicuro, ragazzi, di avere almeno una Megapietra dell'Altaria da qualche parte. Eccola qua, Altarianite, eccolo qua. Quindi, oggi noi potremmo ottenere un bello Altaria. Bello, ragazzi, mi piace questo episodio un po' diverso dal solito, perché cerchiamo di fare qualcosa di più particolare rispetto alle solite catture di Pokémon leggendari o di sfida. No, Takedown io lo faccio imparare al posto di Sing. Poi cosa vuole imparare? Moonblast, al posto di Fury Attack o di Round? No, di Fury Attack. Ok. Già così stiamo volvendo il nostro Swablu in un bellissimo Altaria. Ottimo. Sono molto, molto felice, ragazzi. Ok, eccolo qua. Abbiamo un po' di dimensioni piccoline. Dragon Pulse, ovviamente, al posto di Round. E però livelliamo ancora almeno fino al livello 46. Dai, ragazzi. Direi che così è ottimo. In più diamo la sua Altarite ad Altaria. Se non mi sbaglio, Tievul, te ne devi andare fuori dalle scatole, se no ti prendo a testate. Noi andiamo a curare i nostri Pokémon con molto acclamato, che poi non so se magari in passato li ho utilizzati o meno. Quindi curiamoli, perché è molto, molto importante. Onestamente, questa serie qua la stiamo portando da talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche quando abbiamo incatturato questo Swablu. Però, facciamo una cosa, ragazzi. Ora, ci portiamo dietro il nostro PC, quindi non dimentichiamo di portarcelo dietro. Andiamo qua dentro e ce lo portiamo in questo modo qua. Poi, andiamo un attimino, ragazzi, in questo modo qua, nelle Mewtwo Island. Perché, essendo che, appunto, è un'isola, la Mewtwo Island, e qua attorno... Uh, là in fondo vedo un Electabuzz, se non mi sbaglio, Totem. E infatti è così. Qua, noi dovremmo essere circondati da un bellissimo mare. Ma perché, ragazzi, vengo qua? Solitamente, appunto, la zona, questa qua, della Mewtwo Island, è una zona dove spawnano veramente tanti Pokémon di livello molto, molto alto. Soprattutto la zona di Charizard Shadow. È una zona dove spawnano anche tanti Starter e tanti Dragonite di livello alto. Eccolo qua, guardate, ragazzi. Mi ha appena spawnato, per esempio, Blastoise, ve lo dicevo. Però, come prima cosa, voglio andare a controllare con questo bellissimo alt... Ragazzi, è spawnato uno Zarude! È spawnato un Pokémon leggendario! Nella Flower Forest! Ragazzi, ci è spawnato così uno Zarude! Allora, calma! Flower Forest! Quindi è qua in giro! Eccolo! Ragazzi! È davanti ai nostri occhi, non ci credo! Cioè, allora, io non so con quale timing sta cosa sia successa, ma è veramente un bellissimo Zarude! Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Mi serve una squadra delle catture un po' di livello più alto. A meno che non abbiamo già degli Pokémon a 70, Blastoise al 41... Allora, proviamo a sfidarlo così. Dov'è? 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 Zarude! Zarude! Eccoci qua! Allora, facciamo che lo sfidiamo con la nostra squadra normale. Poi, magari, utilizziamo Mew per abbassarlo di uno. Ma è interessante come roba, ragazzi! Allora, andiamo a vedere assieme Zarude! Che tipo di Pokémon è? Allora, ok! Cerchiamolo, cerchiamolo! È un Pokémon che conosco veramente poco! Buio Erba! Quindi soffre con le Ottero, Folletto, Fuoco, Ghiaccio, Lotta, Veleno e Volante. Soffre tantissime mosse, tipo Terra e Resistente. Core Enforcer, che è una mossa tipo Drago, danno normale. Allora, facciamoli Core Enforcer, ragazzi. Lui ci do io veramente tanto. Ok. Potrei utilizzare Mew, in effetti, ragazzi. Che però, in questo momento non l'ha tirato ancora fuori, perché sono un po' stupidino. Però lui ci ha fatto fuori le Zeigarde. Allora, andiamo con Mew. Solo di False Swipe lo portiamo a livello 1. Vita di livello 1. Lui ci ha fatto una mossa che ci sta togliendo tantissimo. Ci ha tolto... C'è un Meltan! Ci ha tolto 74. Ok. Andiamo avanti. False Swipe, 1 di vita, ragazzi. Interessantissimo. Bag, Poké Ball. E con cosa vado, ragazzi? Fuori, se non mi sbaglio, è notte. Vediamo un attimino. È notte, sì, esatto. Quindi le Dusk Ball potrebbero essere interessantissime, ragazzi. Però io non vedo dove mi cade. Ok? Siamo in Waiting Down... No, è uscito all'ultimo! È uscito all'ultimo. Ok, andiamo... Ah, eccola qua la Dusk Ball, ragazzi. Qua vi scelano che sta girando. Un giro. Due giri. Tre giri di Dusk Ball. Ah, è uscito ancora all'ultimo. Ci ha fatto una mossa super efficace. Allora, Max Potion, Chrome Mew, che potrebbe essere un Pokémon... Ehi... Tanto interessante. Però, magari da dietro qua possiamo gustarci una meglio il giro della Poké Ball. Due giri. Tre giri. No, ancora all'ultimo! Guardate, sto schifoso, ma hai detto di uno Zarud. Se doveva creare questi problemi. Allora, vorrei controllare un attimino meglio la Dusk Ball. Senza creare problemi di visuale. Però mi sa che l'abbiamo catturato. E infatti! Catturato anche questo bellissimo Zarud! Dai, ma che storia! Che è se hai livellato Mew? Poi anche Altaria 47. Ma dai! Bello! Sono super felice, ragazzi. Tutto ciò, come vi ho detto, sono spawnati un sacco di Pokémon interessanti. C'è quella Aerodactyl là in fondo che ha appena spawnato. Che è molto interessante. Ditemi, ragazzi, se vi piacciono anche questi video qua. Dove facciamo un po' di esplorazione. E cerchiamo di fare delle catture un po' più particolari rispetto al solito. Allora, noi adesso dobbiamo aspettare direttamente qua dentro che ci sponi o un Wallmare, che è la prima evoluzione di Wailord. Che diciamo che è una specie di balenottero. Eccolo! Quello là, tipo, ragazzi. Quello là è un Wallmare, se non mi sbaglio. Dovrebbe pronunciarsi in questo modo. Adesso magari sto confondendo un attimino. Ma ogni volta mi devo ricordare i 400 nomi di Pokémon. E o otteniamo lui giga enorme, ragazzi. Oppure aspettiamo che sponi Wailord. Però andiamo a prendere quel Wailmare, per esempio. Per vedere un attimino quanto è grande. Proviamo a catturarlo già da subito. Vediamo un attimino quanto è distante anche. Perché poi, essendo che è in acqua, è un po' ostica come cattura. Là c'è anche un altro Pokémon piccolissimo che sta svolazzando un po' nell'acqua. Allora, giovane campione! Mi servi. Allora, andiamo con Mew, per favore. Intanto il mio Zygarde è sceso giù di vita un sacco. Mi sa che prima aveva proprio perso vita. Allora, Wailmare al 30. Wailmare, è vero. Forcewipe, con uno di vita lo lasciamo. E andiamo subito di Pokéball. E subitissimo andiamo di Ultra Ball. Ne abbiamo 64, ragazzi. Quindi qua andiamo iper tranquilli che lo possiamo super, super, subito catturare. Non credo che esca con uno di vita da una Ultra Ball. Quindi, mi sa che la prima cattura l'abbiamo già fatta. E andiamo subito ad analizzare quanto è grande di dimensioni questo Wailmare. No, ma l'ho lasciato veramente il PC a casa? Non ce l'ho nell'inventario? Aspetta, no. Ah, no, l'ho lasciato... No, ragazzi, sono proprio... Guardate, io non mi esprimo. L'ho lasciato lì a fianco quando ho preso il Pokémon leggendario. Quindi, Mewtwo Island. Calma un attimo. L'ho lasciato qua sopra. Mamma mia, che memoria pessima che ho. Analizziamo direttamente qua da PC. Wailmare. Ok. Allora, stats. Uh! Ragazzi! Già le dimensioni giganti potrebbe essere molto interessante. Però, noi in realtà lo cerchiamo di dimensioni giga enormi. È quella roba molto, molto interessante. Intanto qua abbiamo anche un bellissimo Zarude. Guardatelo che bomba che è. Buio erba. Interessante come tipo Pokémon. E ragazzi, secondo me... Ma come togli il solo 18 questa mossa? Questo potrebbe essere tanto, tanto interessante come tipo di mossa, eh. Però, poi magari mi dite voi nei commenti qualcosa da far imparare direttamente a lui. Allora, andiamo a vedere se ne troviamo altri, ragazzi. Perché Gigante, già al primo colpo, è un'ottima trovata. Però, ne lo vogliamo giga enorme, ragazzi. Quindi cerchiamo un attimino di catturarne un po'. No, quello non sia Leo, dovrebbe essere. Noi cerchiamo solamente Wailmare o Wailor direttamente. Che sarebbe veramente una roba atomica. Non mi scappare! Oh, vieni qua! Ma ragazzi, ma mi pare che sto inseguendo un Pokémon nell'acqua mentre sto nuotando. Mi servirebbe un Pokémon... Forse Blastoise potrebbe stare qua nell'acqua. Uh, qua c'è un altro. No, questo qua non sia Leo. Dannazione a lui. No, dovevo salire, sennò affogo. Ok, è qua sotto di me. Calma, calma. Vieni qua, Mew. Mi servi tu. Ok, bravo Mew. Forse Swipe. Ok, lasciamo... Uh, 24 di livello. Ragazzi, ma da quanto tempo è che non prendiamo un Pokémon di livello così tanto basso. Vai, Ultra Ball lo catturiamo subitissimo. E andiamo ancora ad analizzare anche questo qua. Secondo me esprano comunque tutti quanti queste dimensioni qui, eh, di Wailmare. Perché? O Wailmare, chiamateli come volete. Vediamo. Catch Combo è già il secondo che catturiamo. Interessantissimo. Risaliamo e guardiamo anche questo qua di dimensioni, ma secondo me è molto simile all'altro. Ovviamente io sono sotto l'acqua, quindi qua prenderò danno, ovviamente, come sempre. Ciao, Odish, buongiorno. Allora, controlliamo anche questo. Wailmare. Allora, qua, stats. Huge! Mi sa che è ancora più grande Huge, ragazzi. Pure no, ragazzi. Non lo so, eh. Forse Giant è meglio di Huge. Là c'è un altro, però mi sa che è più piccolino rispetto agli altri. Allora, dobbiamo cercare quello adatto, ragazzi. Quello che vogliamo è quello giga enorme. Che è molto difficile da trovare, lo so, è molto raro. Però noi siamo qua per questo. Noi siamo qua solo per la cattura di questo Pokémon gigantesco. Bravo che mi tagli la strada. Ok. Però io mi sa che sto per soffocare, quindi tra un po' mi devo ritippare sulla Mewtwo Island. Questo qua è 17, ragazzi. Allora, proviamo a prenderlo con una Ball diversa, giusto così, per cambiare. Non lo so, Level Ball, che è proprio la Ball più sbagliata per catturare un Pokémon di 17. Però vabbè, fai niente. Se mi esce, ragazzi, è il colmo totale. Allora, però dovremmo averlo preso. Ok. Oh, ne ha sponato un altro, dannazione. Ok. The Mark has made la città. Cos'è 9000? Ah, ha preso un Pokémon con quella Ball, semplicemente. Allora, facciamo che ci ritippiamo nella Mewtwo Island. E poi andiamo a controllare un attimino quanto, praticamente, di che dimensione è questo qua che abbiamo appena trovato. Qua l'abbiamo già presa, la Master Ball. O la cassa. Sì, l'abbiamo già presa, l'abbiamo già presa. Quindi quella città lì era perché... Ah, ok, perché pensavo di aver catturato 9000 Pokémon. La cosa era un po' sgravata, ragazzi. Sì, è un po', un po', un po' troppo, un po' tumaccio. Allora, dove diamo nero il mio PC là in fondo? Allora, mi sa che qua ci metteremo un pochino, comunque, ragazzi, di quelle catture, eh? Perché non è per niente semplice. Allora, andiamo qua. Qua ne abbiamo quindi tre, se non mi sbaglio. Quattro, no, tre. Allora, questo qua era quello gigantesco. Sì, però, se stiamo ogni volta a uscire. Poi abbiamo quello huge. Poi c'è l'ultimo, questo qua. Vediamo di che dimensione è. È questo! È giga enorme! Fermi, 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 fermi. No, ragazzi, l'abbiamo già fatta? In un quarto d'ora e dieci minuti? Calma, 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 calma. Torniamoci subitissimo a casa perché questo qui è da curare, dato che è a livello 17 con un PS di vita. Ragazzi, ho rischiato di farmi scappare così, di tanto così. Ma abbiamo un Wailord, quindi, gigantesco. Ma all'interno di una level ball, che è la cosa più stupida dell'universo. Calma! Allora, quindi, tecnicamente, se noi diamo a questo Wailmare, calma, le nostre bellissime XP-Kend XL, dovrebbe salire tanto, tanto di livello fino a quando dovrebbe evolversi. Water Pulse al posto di Mist. Eevee Slam al posto di Growl. Brin al posto di Splash. Whirlpool, noi glielo facciamo imparare. Dive è interessante come mossa al posto di Water Gun. No, ancora niente, ragazzi. Però, secondo me, a livello 40 si dovrebbe evolvere. Già si sta evolvendo, già si sta livellando molto. Allora, Bounce al posto di Brin, assolutamente. Body Slam al posto di Eevee Slam. Poi, Rest, non glielo voglio far imparare. Ancora nulla! È il 39! Guardate come sorride, ragazzi. Ma che cavolo di video, bellissimo. Amnesia, però è un'ottima mossa. Al posto di Water Pulse. Si sta evolvendo! Si sta evolvendo! Ragazzi, allarghiamo la visuale per bene. Perché stiamo per catturare il Pokémon più grosso della Pixelmon. Eccolo qua. Ok, calma, eh. Calma, calma, pillolone. Vieni qua. Eccolo! Ragazzi, ditemi se non è leggendario sta roba. Allora, se non mi sbaglio, che non so che sta succedendo. Non so perché. Posso anche cavalcarlo. No! C'è un Venusaur Boss! Ragazzi, io sto letteralmente cavalcando un Wailord così, in mezzo a nulla. Cioè, è una pillola gigantesca di Pokémon. Cado, prendo due cuore e mezzo di danno. Giusto per farvi capire. Cioè, guardate quanto diamine è gigantesco! Che roba bellissima! È stupida nello stesso momento. Abbiamo anche un Venusaur da far fuori. Quindi attacchiamo questo... Chi è? P-Dov. A6 e A5. Te ne vuoi andare o vuoi che ti dimostri che sei inutile? Allora, andiamo qua con questo giovane Venusaur fuori classe. Che noi non facciamo un tubo secco. In realtà ci protegliamo più o meno lo stesso danno. Però, si sta facendo il possibile, ragazzi. Allora, mega evolviamolo. Andiamo di Hoursphere. Vi piace, ragazzi, questo Wailord gigantesco? Sì, potremmo farci una serie dentro la serie di catturare i Pokémon più stupidi che ci siano. Questo qua mi faceva ridere. Ha detto, facciamoci un video. Mi piacerebbe fare un video dove lo catturiamo. Thunder e lo facciamo fuori. Ok. Allora, qua abbiamo ottenuto un'altra caramella rara. Droppiamo tutto quanto il resto. E io, ragazzi, sono strafelice del video che abbiamo fatto oggi. Spero che anche a voi vi sia piaciuto. Devo scegliere uno dei due video qua davanti. E noi, campioni, ci salutiamo qua. Mi raccomando, eh. Scegliete uno dei due video qua davanti. O se vi siete persi qualche video della Pixemon. O siete appena arrivati sul mio canale e mi avete scoperto grazie a questo video. Scegliete la playlist qua davanti. Mi raccomando, per guardarvi tutto quanto il resto della serie che vi siete persi. Perché è una figata incredibile. Da Marche è tutto. Noi ci salutiamo qua. Ciao, ciao!